C'era qualcosa di veramente tremendo che ci attendeva, qualcosa di terribile che noi dovevamo portare sul nostro capo, ebbene Cristo ha preso il nostro posto, Cristo si è sostituito ad ognuno di noi. Affidatevi nelle mani di Dio perché Dio è grande ed è meraviglioso. Gesù molto spesso si rivolge a persone a livello personale proprio, a livello intimo, e gli offre loro la salvezza. Così avvenne per tanti al tempo di Gesù e così vuole avvenire per te oggi. Grazie.